Arriviamo a questa gara con tanta rabbia dentro dopo il CO di Venezia, ha dichiarato Vivarini, una gara dove siamo stati un po' ingenui. Non ci siamo accontentati del pareggio così come a Chiavari, abbiamo provato a vincere continuando ad attaccare anche se forse negli ultimi minuti potevamo gestire meglio la situazione. L'abbiamo analizzata così, ma credo che questa sconfitta ci debba insegnare che ogni tanto ci possiamo anche accontentare. Allo stesso tempo, sono contento dello spirito della squadra, abbiamo interpretato la gara nel giusto modo e ci è mancato solo il gol. Siamo tornati con tanta rabbia, quella rabbia che adesso va trasformata in energia e carica da mettere in campo domani con il Pescara. Grazie a tutti.